Preghiere e mantra. La voce interiore attraverso Roberta S. domanda Come posso lavorare meglio? Guide. La tua impronta è ben impostata nel tuo raggio d'azione e non ti serve sapere se ciò che fai andrà a buon fine o se si scontrerà contro dei muri chiusi. Il tuo operare è di per sé movimento animico. I tuoi propositi segnano il tuo destino e muovono le vibrazioni intorno a te. Quindi nessuno più di te può sapere cosa seguire e cosa invece non perseguire più. È importante per te saper riconoscere fino a che punto devi spingerti e quando è il momento di cambiare strada, senza ostinarti in inutili tentativi di coinvolgere sul tuo cammino chi un cammino lo ha già scelto. Molte strade si incrociano. Sta a te decidere quale seguire e quale abbandonare ma non pretendere che siano le strade a seguire te. Devi essere tu a decidere come muoverti e accanto a chi muoverti. Hai tutti gli strumenti per renderti conto cosa ti è a favore e cosa invece è futile per il tuo movimento interiore. Puoi cambiare strada in qualsiasi momento. Ricordatelo sempre. Se qualcosa non ti piace o non è come la immaginavi, non devi per forza accettarla o subirla, ma piuttosto cambia movimento e indirizzati verso quello che senti tuo e non verso ciò che gli standard ti dicono di fare. Non seguire gli standard. Ricorda che il successo di una azione è dato da ciò che suscita in te quell'azione. Quindi va bene tutto ciò che ti mette in armonia e ti rende sereno. Invece è da evitare tutto quello che fai per dovere, un dovere che non ti appartiene più, che appartiene a te di ieri. Un cammino è luminoso quando accoglie molteplici cambiamenti nell'arco del tempo. Non siete fatti per fare sempre la stessa cosa. Per questo ciò che era perfetto ieri, oggi diventa un peso. Ciò che ieri ti arricchiva e ti donava luce, oggi può essere un tuo limite. Vi attaccate alle esperienze da vivere e le rendete abitudini, ma le abitudini vi sono nemiche. Fai bene a cambiare direzione, fai bene a cambiare interesse, fai bene a cambiare idea. Sei fatto per cambiare e assimilare man mano la luce da ogni esperienza. Quindi non temere di modificare i tuoi passi. Dovresti temere di più il non modificarli, poiché dalla stasi nasce noia e nella noia perdi le tue migliori ispirazioni. Approfitta della libertà che hai, non pensarti limitato in essa. Piuttosto allarga le tue amicizie, quelle vere però. Dedicati alle persone reali che incontri nella tua esistenza e pensa meno a coloro che ti scrivono virtualmente, ma che poi altro non sono che degli elementi che sfogano su di te le loro paure, le loro incertezze, il loro buio. Tu sei luce, stai in ambienti luminosi, automaticamente ti troverai a incrementare la luce e ad aiutare anche chi realmente riesce a percepire il tuo aiuto. Gli scambi avvengono solo sul piano di parità. Se qualcuno si aggrappa alle tue certezze, tu non lasciarlo aggrappare, perché ti bloccherebbe e non avrebbe comunque quell'aiuto che lo aiuterebbe a stare meglio. Chi progredisce lo fa in prima persona, attraverso le esperienze personali. Il resto è illusione. Puoi avere avuto l'illusione di avere donato un chiarimento e qualcuno può aver avuto l'illusione di aver avuto un chiarimento da te, ma in verità le conquiste del mondo del sentire avvengono solo attraverso le esperienze. Non sono le idee, le convinzioni, i ragionamenti giusti a portare luce in un cammino. Piuttosto ogni esperienza porta una vibrazione, per cui ciò che dici a una persona è meno importante di ciò che una persona prova nell'incontrarti. Tu trasmetti ciò che sei con la tua persona e così tutti gli altri trasmettono ciò che sono semplicemente incontrandoti e guardandoti in faccia. Quindi non ci sono gruppi spirituali che arricchiscono le vostre vibrazioni, a meno che in questi gruppi non si facciano preghiere. Altro è infatti il discorso sulle preghiere o sui mantra. Frequenta le persone che ti ispirano fiducia. Dai credito a chi ti ascolta e abbandona chi non vuole ascoltare la tua voce. Non seguire passi che non sono tuoi per un senso del dovere che non puoi sapere dove ti porterà. Finora hai fatto ciò che sentivi di dover fare. Ora segui il tuo istinto migliore e cambia i tuoi discorsi con quelli della serenità. Lascia stare le spiegazioni. Quelle riservale solo a chi te le chiede di persona e che di persona ti risponde guardandoti in faccia. Non dare importanza ai numeri ma alla qualità dei tuoi amici. Ritrova vecchie compagnie e accorgiti di come il tempo abbia lavorato su di loro. Resterai piacevolmente sorpreso. Ritroverai delle belle persone proprio come sei tu. Frequenta chi ti cerca, non chi pretende che tu indichi la via da seguire. Ricorda che le tue intuizioni sono sempre giuste perché sono tue e sono vere. Quindi non c'è una strada giusta o sbagliata ma una strada che senti tua da seguire. Noi ti appoggiamo in ogni scelta. Saranno tutte scelte giuste proprio come fino ad ora ma impara a gioire delle tue scelte e ad apprezzare il bene che tante persone ti vogliono per quello che sei. Ti sorridiamo.